La Fondazione dell'Ordine Architetti arriva alla settima edizione di Creare Paesaggi, una iniziativa biennale sul tema del paesaggio, approdando quest'anno al tema del paesaggio urbano. È un tema piuttosto importante sia per gli addetti ai lavori sia per la divulgazione del tema perché in qualche modo rende chiaro che il concetto di paesaggio non è esclusivamente quello naturalistico, anzi quello urbano diventa un tema molto importante perché all'interno delle città quello che si vede diventa un fattore determinante per la qualità della vita delle persone. È un fattore determinante ma non è solo una questione di visione degli spazi collettivi e della città in senso generale. Il paesaggio è anche la cura del paesaggio e quindi l'attenzione al suo sviluppo. In qualche modo è un elemento molto importante per il governo del territorio. I territori curati sono territori anche che funzionano dal punto di vista delle attività e noi poi sappiamo che i territori non curati o maltrattati si ribellano improvvisamente e in questi giorni ne abbiamo la prova evidente, cose che sono passate anche a Torino e nel Piemonte che oggi colpiscono città italiane in modo evidente. Quindi è un tema che deve essere al centro dell'attenzione degli architetti, degli urbanisti, dei paesaggisti ovviamente che ne fanno la loro capacità professionale prima, ma deve essere all'attenzione anche degli amministratori e in generale delle persone e di tutti i cittadini.